Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole. Argomento di oggi, i tre migliori etf su cui investire adesso. Mi avete fatto in tantissimi la domanda inviandomi messaggi privati di sapere quali sono i migliori prodotti per investire in questo momento e ho deciso di fare questo video proprio per darvi la mia impressione sui prodotti migliori al momento su cui investire ovviamente prodotti passivi. Ma prima di iniziare vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati da nessuno quindi l'unico modo che avete per supportarmi è quello di lasciarvi un bel like a questo video, se non l'avete ancora fatto fatelo immediatamente perché è gratis lasciare il like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente a capire di che cosa stiamo parlando. Allora ragazzi innanzitutto volevo fare una premessa generale. In questo video infatti voglio porre l'attenzione su tre etf che hanno iniziato l'anno in forte rialzo. Che cosa sono gli etf? Etf è l'acronimo di Exchange Traded Fund, cioè dei fondi azionari gestiti in modo passivo da alcuni gestori e investono su indici di settori dalle forti potenzialità. Secondo gli esperti di proiezioni di borsa infatti i tre migliori etf che promettono un 2021 con rendimenti eccellenti sono quelli che vi elencherò in questo video. Allora ragazzi i grandi vantaggi dell'investimento in etf. Perché investire in etf è una scelta vincente? Allora innanzitutto l'investimento in etf in Italia non è ancora così sviluppato come per esempio sul mercato inglese o americano. Anche se in borsa a Milano sono quotati centinaia di Exchange Traded Fund i vantaggi degli etf sono fondamentalmente due. Il primo permettono una diversificazione dell'investimento con bassi costi. Perché ragazzi allora se voi investite in un etf il gestore dell'etf sarà obbligato ad inserire all'interno di questo paniere di titoli acquistati i titoli che compongono un indice. Ad esempio se voi investite sull'etf del Fuzzimib Italia chiaramente il gestore dell'etf sarà obbligato ad inserire all'interno dei propri acquisti e quindi del proprio paniere di titoli proprio i titoli presenti nel Fuzzimib e a ribilanciare ad intervalli di tempo regolari che possono essere tre mesi sei mesi tutti i titoli. Quindi se ad esempio dovesse uscire a fine anno un'azienda fuori dall'indice Fuzzimib e ne dovesse entrare un'altra il gestore sarà obbligato quindi ad acquistare quell'azienda e a vendere quella che è uscita. Quindi stiamo parlando di fondi molto trasparenti nel senso che voi saprete sempre in ogni caso quali sono le aziende su cui il vostro etf sta investendo. Il secondo fondamentale vantaggio è che sono facilmente acquistabili in borsa a partire anche da poche decine di euro esattamente come un'azione. Quindi a livello di trattamento parliamo di una tipologia di investimento che è praticamente identica all'azionario quindi si comprano e si vendono come se fossero azioni. Ci sono qui però dei macro settori dell'economia che dopo lo scoppio della pandemia stanno acquisendo una notevole importanza. Ad esempio il settore tecnologico quindi cosiddetto tech sector è quello dell'energia verde la cosiddetta green energy. I titoli azionari di società legate a questi comparti stanno letteralmente andando alle stelle. Di conseguenza volano anche gli etf che investono su queste azioni come i tre etf che vi indico di seguito. Per quanto riguarda quindi quest'anno i migliori etf che promettono ottimi rendimenti ve li ho elencati qui in modo tale che voi li possiate andare a cercare autonomamente. Il primo è l'Hellwood blockchain global equity che ha l'ISIN IE00BGBN6P67 ed è un fondo passivo che replica all'andamento di società che fanno parte del sistema blockchain. Come sapete la blockchain è considerata univocalmente da tutti quanti gli investitori il futuro e quindi investire in questo etf è sicuramente un'ottima scelta che vi garantirà nel tempo. È ovvio che anche questi prodotti finanziari possono avere dei cali dovuti proprio all'andamento ciclico dei mercati. Quindi fate attenzione ad inserirli nei vostri portafogli ma con un'idea di investimento a lungo termine. La performance di questo etf da inizio anno è strabiliante perché ha messo a segno un rialzo di ben il 50 per cento. Quindi questo è segno che gli investimenti e le azioni di queste aziende stanno crescendo tantissimo nell'ultimo periodo perché si sono sviluppate nuove tecnologie. Negli ultimi sei mesi la performance è del 90 per cento attualizzata. Attualmente questo etf quota circa 110 euro a quota. È scambiato alla borsa di Milano e se ne può acquistare anche una sola, anche un solo etf per volta. Quindi l'investimento minimo è di circa 100-110 euro al momento in cui sto facendo il video. Altro etf molto importante che facciamo riferimento all'energia made in USA, quindi Stati Uniti, è quello denominato SPDR Standards and Poor's Energy Select Sector con ISIN IE00BWBXM492. Anche in questo caso siamo in presenza di uno strumento che è quotato alla borsa di Milano. Quindi ragazzi parliamo, ovviamente io vi sto selezionando, degli etf regolamentati che eseguono le normative europee, quindi non avrete alcun problema a livello di gestione del vostro investimento perché sono etf quotati alla borsa di Milano. L'etf investe sui titoli azionari appartenenti all'indice Standards and Poor's Energy Select Sector, un indice azionario del settore energetico statunitense. Anche per questo etf le performance sono di tutto rispetto. Da inizio anno ha avuto un guadagno di oltre il 30% e a sei mesi il guadagno è stato di oltre il 40%. Al momento di questo video il titolo quota circa 13,8 euro per quota, quindi parliamo di un costo molto molto basso e accessibile a chiunque. Terzo etf su cui vorrei puntare è un etf che investe nel settore delle infrastrutture per l'energia. Infatti, infine, voglio segnalarvi l'etf LG US Energy Infrastructure MLP che ha un ISIN IE00BHZKHS06. Questo strumento finanziario, ragazzi, replica l'andamento dell'indice USA, Solactive Energy Infrastructure MLP. Questo è un paniere di società statunitensi che operano nell'ambito della logistica dell'energia. Da inizio anno il guadagno è stato di quasi il 30%, ma negli ultimi sei mesi devo segnalarvi che la performance è stata addirittura del 46%. Anche questo etf, come gli altri due che vi ho elencato prima, sono quotati alla borsa di Milano e lo si può acquistare a una quota di circa 3,5 euro ciascuna. Attenzione, però, volevo segnalarvi questo dettaglio. Tutti e tre questi etf sono quotati alla borsa italiana e quindi li potete acquistare in euro, ma la valuta di riferimento è dollaro statunitense. Quindi attenzione, perché oltre ad essere influenzati dal mercato azionario in generale, come tutti gli investimenti azionari, c'è anche la volatilità e la fluttuazione legata al cambio euro-dollaro, che chiaramente può essere sia a nostro favore che a nostro sfavore. Quindi attenzione a andare a controllare anche il cambio euro-dollaro nel caso in cui andiate ad investire in questi strumenti. Bene ragazzi, io vi ho fatto questa carrellata, vi raccomando comunque, perché non sono un consulente finanziario, di fare le vostre analisi prima di investire. Lasciate un commento a questo video se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like lo stesso, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!